Arrivano le bollette continuamente, sempre da pagare, pagare, 30, 30, 20, 25, non si capisce più niente, niente. Non è che voglio che ci mettesse una tassa, la paghiamo e finisce la commedia, finisce la storia. A spese nostre abbiamo comprato la macchinetta, abbiamo comprato quella per pompare l'acqua, quella per tagliare l'erba, ma tutto lo facciamo noi a spese nostre. Il sì, non lo so chi è, queste cose non le so. Ma chi è che manda queste bollette? Allora ci ha chiesto i danni, ci ha chiesto tanto al metro, non me lo so spiegare bene, però mi capite insomma quello che voglio dire. E noi, allora quando dobbiamo chiedere a questo signore che gli lavori, loro chiedono i soldi senza lavori. Annaffiai Prado, facciamo tutto quanto noi questo qui. Le pulizie scale, se lo fai paghiamo, ma lo fai? Non esiste l'ascensore, l'ascensore sono le nostre gambe che vanno sotto e sopra.